Siamo all'arrivo quindi, sta concludendo la gara per quel che riguarda le esordienti del secondo anno signori, il tricolone è suo e va a vincere in perfetta solitudine Sofia Guida e Ciccacarza della squad Libarna e l'applauso continua per la vice campionessa italiana con il numero 577 Elisa Ferri prima del 2020, seconda in questa edizione del campionato italiano del 2021 Andiamo sul terzo gradino del podio con Sabrina Rizzi, James Bike Team Guida Ancora più in alto con il secondo posto di Ferri Elisa della GS Olimpia Valdarnese Signori gli applausi a questo punto sono tutti per lei, Gicciardaz, Sofia E' la nuova campionessa italiana per la categoria esordienti del secondo anno Ragazzi salite Sofia Gicciardaz, che bella gara, è stato uno spettacolo vederti lottare con Elisa Ferri Grazie mille, sono riuscita a staccarla in discesa e in salita ho tenuto la progressione e alla fine sono riuscita a vincere Come ti sei trovata sul tracciato? Mi sono trovata benissimo e forse solo nella salita nel bosco era un po' scivoloso ma niente di che Cosa significa per te questa maglia? Allora sono molto felice e niente, la dedico a una persona che purtroppo non c'è più e niente Quando hai iniziato a praticare questo sport? Ho iniziato a... dieci anni fa, avevo tre, quattro anni Mi ha preso il ciclo Lucchini grazie a Paolo Pess e poi ho continuato la mia esperienza e sono arrivato fin qua Grazie mille